Ciao a tutti, sono passati ormai un paio di giorni dall'inizio dell'evento della grande sfida sott'acqua, oggi però non parleremo di quell'evento, a breve uscirà un video in cui spiegherò tutte le mie conclusioni sugli oggetti, ormai ho le idee chiare, gli unici dubbi mi rimangono sull'arma del mago, ma a brevissimo spero di fuggare anche questi dubbi. Oggi parleremo però dell'evoluzione degli oggetti, sarà una chiacchierata perché io, parlo per me ma penso che sia la stessa cosa per altri, ho notato che gli oggetti degli ultimi due eventi sembrano tracciare una direzione e vorrei capire se siete d'accordo con me. Il primo tema è sul bilanciamento, allora, da che mondo è mondo tutti i giochi di strategia si trovano ad un certo punto ad avere degli oggetti o delle combinazioni troppo forti e chi gestisce il gioco ha due strade, o li nerfa o crea dei loro nemici, delle nemesi. Il nerfa vuol dire ridurre la potenza dell'oggetto. Noi l'abbiamo visto nel gioco a Steak Castle, ma l'abbiamo visto quasi solo sulle reliquie. Quindi penso ad esempio la cintura e il cappello, che una volta si potevano sommare all'infinito, ora si possono sommare fino a un massimo di tre guerriere o un massimo di tre maghi. Questo li ha resi molto meno interessanti, però l'hanno fatto, l'hanno fatto senza grossi problemi. E secondo me l'hanno potuto fare perché questi oggetti non sono in vendita. Su un'arma e venti è molto più complesso, perché rischia di trovare qualcuno che abbia speso dei soldi veri per ottenerla e poi se la ritrova da un giorno all'altro molto meno potente. Questi potrebbe chiedere i soldi indietro, non lo escludo. E quindi in questi casi secondo me stanno sfruttando la strategia della nemesi. Ci sono vari esempi, qui ho preso uno che è un po' particolare, quello del resuscita, in particolare della croce ma non solo, contro cui hanno creato il vestito della Fenice. Il vestito della Fenice in pratica massacra tutte le Ressurrezioni. Ho preso questo ma ce ne sono altre, ad esempio alcune rune su alcune delle ultime armature, alcune degli anelli, tolgono i debuff e questo va tantissimo contro alcune altre armi, penso al vestito cabelene e ad altri. Ci sta, ha una sua logica, lo capisco, non mi piace tanto perché crea quell'effetto ping pong. Cosa vuol dire? Oggi molti usano questo reliquio, quella della croce, però molti stanno usando anche il vestito della Fenice. Se tanta gente comincerà a usare il vestito della Fenice, la gente toglierà la croce. Ma poi, visto che la gente non userà pure la croce, la gente cambierà il vestito e allora la gente tornerà a rimetterla a croce. Sarà questo effetto ping pong. Che è un effetto che chi fa certi giochi dove si parla di meta è abbastanza noto, però non è piacevole. Cioè uno non può fare il team sempre ragionando chissà cosa userà l'altro, quindi userò questo. Può piacere, a me non esalta. Il secondo aspetto, che è il motivo principale per cui faccio questo video, è il tempo di ripresa. Noi siamo abituati ad avere, in alcuni oggetti, in alcune armi, in particolare quelle da mago e alcune di quelle da tank, addicitura una volta ogni tanto. Questo è il tempo di ripresa, che vuol dire che l'abilità si attiva una volta ogni tot secondi. Il problema è che, nei nuovi oggetti, cosa abbiamo notato? Pensiamo allo scettro della Fenice. Alla bacchetta dell'ultimo evento, all'ascia, alla spada. Questi quattro oggetti, quindi gli ultimi due usciti da tank e da mago, hanno tutti una probabilità in base all'attacco. Cioè non conta il tempo, ma ogni volta che attacchi c'è una probabilità pari al 10, 15, 20, 30% che si attivi l'abilità. Questo ha due aspetti interessanti. Il primo è che non funziona quando il combattente non attacca. Può sembrare banale, ma non lo è, perché se ci pensate, pensate al mago con la bacchetta dell'angelo. Se quel combattente viene stordito potenzialmente per 10 secondi, appena finirà lo stordimento, lui lancerà la sua abilità. Perché il tempo di ripresa prosegue anche mentre è disarmato, spaventato, stordito, eccetera. Invece in questo caso no. In questo caso la militare ha una probabilità di attivarsi solo se lui attacca. Ma se lui non attacca non c'è nessuna probabilità che si attivi. Quindi questo è un aspetto interessante. Il secondo, che sarà chiaro a chi ha visto il mio video sul mago, gli artefatti come l'istorsione temporale, occultista o rispetto magico o questa armatura diventano inutili con queste armi. Restano utili con altre, ovviamente restano utili con la risurrezione, con il drain, con l'angelo, eccetera. Ma su queste sono inutili. E quindi se voi volete utilizzare, che so, l'istorsione temporale, dovete contare bene quante sono le armi che avete con la distorsione una volta ogni tanto. Io lo dico perché ho visto tanta gente che sta usando queste armi, ma sta mantenendo i vecchi artefatti. Purtroppo non è più così. Io resto convinto che l'istorsione temporale ha senso se avete due, meglio tre, abilità con la distorsione una volta ogni tanto. Altrimenti mi spiace, ma è abbastanza inutile. Detto questo, terzo punto, poi chiudo tanto video veloce, i set pronti. Chi segue un po' la community Discord, io no, però ho avuto modo di leggere, la priorità numero uno dell'azienda sulle prossime modifiche è creare dei set preimpostati. Cosa vuol dire? Ogni volta che io vado in segrete, in arena, posso selezionare un set tra quelli che ho preparato prima. Quindi io dico, quando vado, che ne so, in arena, voglio usare questa reliquia, questi combattenti con questi oggetti. Quando vado in baia, voglio usare questi altri. Questo è fondamentale, assolutamente fondamentale, perché c'è gente come me che ogni volta perde un minuto a cambiare tutti gli oggetti. Però si pone una domanda. Ma io, quanti oggetti posso gemmare? Cioè, io, su quanti oggetti posso mettere gemme di un livello pari o comunque simile? Perché non so tutti, non posso, cioè, o almeno, è difficile farlo. Qui ho preso tre oggetti, ma non sono solo questi, che si adattano perfettamente a un tipo di gioco. In particolare questi si adattano tutti all'arena. Però sono tre oggetti che, in segreto, ad esempio, sono quasi inutili. Ma io, quindi, posso gemmare un oggetto che uso solo in una modalità e non nelle altre? La risposta la lascio a voi, perché non ce l'ho. Io penso di sì, però non potrò farlo all'infinito. Quindi io mi immagino un sistema in cui io avrò, ad esempio, penso all'oggetto del vestito della finice, il combattente con quell'armatura che uso in arena. E un'armatura secondaria, magari gemmata un po' meglio o un po' peggio, dipende dalla vostra priorità, quando vado in segreta. Io, per esempio, penso che l'arena sia la parte più importante del gioco. Però in questo momento bisogna di far crescere l'eroe, quindi darò la preferenza alle segrete. Questo lo dico perché tutto mi lascia pensare che gli oggetti saranno sempre più settorializzati. Anche l'ultimo amuleto che è uscito, quello che potenzia la risoluzione di chi lo indossa, è eccezionale, ma è eccezionale in segreta. In arena non molti usano le soluzioni, e secondo me lo useranno sempre di meno. Quindi è importante che imparate a capire quali oggetti vanno bene e dove. Nel prossimo video, che uscirà, ripeto, spero non più tardi di una settimana, proverò anche a dire dove vedo i singoli oggetti. Questo è tutto, non la tiro troppo lunga, spero che il video possa essere utile, e se volete discutiamole. Ciao!